buongiorno benvenuti al tg2000 stati uniti joe biden è già al lavoro con 17 provvedimenti detta la linea della sua presidenza da oggi nel paese obbligo di mascherina e distanziamento caos vaccini pfizer non mantiene le promesse sospesa la somministrazione della prima dose dove non è possibile garantire il richiamo alla maturità 2021 ammessi gli studenti con almeno la media del 6 anche quest'anno niente scritto ma solo un colloquio orale con una commissione interna questi dunque i titoli e per cominciare andiamo negli stati uniti dove il presidente biden ha iniziato il suo mandato firmando 17 ordini esecutivi tra questi anche l'obbligo di mascherina e distanziamento contro la pandemia covid che ad oggi non era previsto vediamo allora il servizio di marco burini a seguire l'analisi di natalie tocci esperta di politica internazionale quanta fretta ma dove corri dove vai altro che sleepy joe come lo sfotteva il predecessore il vecchio joe biden 78 anni suonati nuovo presidente degli stati uniti ha una fretta del diavolo d'altronde solo muovendosi subito con determinazione e cognizione di causa può sperare di invertire lo stato delle cose appena insediato ha firmato ben 17 ordini esecutivi che toccano i nodi principali dell'azione politica uno per rientrare nell'accordo di parigi sul clima e uno per rientrare nell'organizzazione mondiale della sanità ribaltando così due clamorose defezioni volute da trump ma anche sull'immigrazione finalmente si cambia musica biden rafforza il programma di obama a favore degli immigrati irregolari arrivati negli stati uniti da bambini insieme ai genitori interrompendo le espulsioni volute da trump e blocca la costruzione del muro al confine col messico vera e propria fissa del predecessore per non parlare della questione razziale la ferita più antica e profonda se trump ammiccava e blandiva i suprematisti bianchi biden vuole un'agenzia che combatta il razzismo dentro le organizzazioni federali e con un altro ordine esecutivo ha rafforzato una legge del 1964 che vieta al governo federale di discriminare le persone sulla base dell'orientamento sessuale e di genere per quanto riguarda l'economia qualche giorno fa ha presentato un piano molto ambizioso da 1900 miliardi di dollari intanto ha sospeso il pagamento dei debiti universitari una piaga nazionale e degli sfratti dovuti alla pandemia a proposito vuol far vaccinare 100 milioni di americani nei primi 100 giorni di presidenza biden è stato estremamente chiaro in quelle che sono le sue intenzioni quelle che sono le sue ambizioni il suo è stato un discorso non tanto di visione non è stato un discorso intellettuale è stato in realtà un discorso profondamente umano profondamente umano in quanto ha messo l'accento in maniera molto chiara su quelli che sono i nemici nemici non sono individui non sono gruppi non sono nazione i nemici il nemico è la menzogna il nemico è la malattia e la violenza e il razzismo e questi sono i nemici da combattere come farlo anche qua la risposta di biden è stata tanto chiara quanto quanto complessa effettivamente da ottenere ossia l'unità sappiamo che gli stati uniti sono un paese profondamente diviso lacerato e biden ha ripetuto 30 volte la parola unità quindi diciamo la ricetta è chiara il problema è chiaro e la soluzione altrettanto riuscirà biden nell'impresa naturalmente questa non è un'agenda di un presidente questa è un'agenda strutturale un'agenda che richiederà decenni diciamo per per la sua realizzazione quello che è chiaro è che questo presidente ha ben chiaro che questa è la prea la sua prima seconda e ultima priorità veniamo alla politica italiana occhi puntati sul quirinale ieri sera l'incontro definito interlocutorio tra il capo dello stato sergio mattarella e il presidente del consiglio giuseppe conte nel pomeriggio al colle oggi invece attesa la delegazione del centro destra presenti tutti i leader augusto cantelmi alla ricerca di una maggioranza più larga altrimenti non resterebbe che il voto governo di fronte ad un bivio dopo l'addio di renzi alla fiducia al senato ottenuta per una manciata di voti al quirinale ieri conte in un incontro interlocutorio con il capo dello stato avrebbe espresso l'intenzione di trovare i numeri necessari per andare avanti e di farlo in fretta ma per rispondere alle richieste del colle si deve costituire un gruppo parlamentare solido e identificabile non una mucchiata di nomi pescati a caso mentre da pd e 5 stelle ancora un no almeno per ora a governi tecnici di scopo istituzionali il centro destra intanto prova a mantenere una linea comune nel pomeriggio nell'incontro al quirinale con mattarella ribadisce la necessità di trovare una soluzione altrimenti l'unica strada è quella del voto il problema del capo dello stato sia quella di prendere atto che esiste un'opposizione costruttiva che l'ha dimostrato andando a votare lo scostamento di bilancio andando a votare il decreto natale ma che però la situazione o si chiarisce o si va a votare quadro quanto mai complicato e sebbene sia arrivato il via libera bipartisan allo scostamento di bilancio da 32 miliardi per sostenere il quinto decreto ristori i lavori parlamentari rischiano di diventare un campo di battaglia per la maggioranza sia in aula sia soprattutto nelle commissioni lorenzo cesar ha segnato le sue dimissioni da segretario nazionale dell'udc dopo aver ricevuto questa mattina un avviso di garanzia relativo alla maxi operazione contro l'andrangheta e condotto dalla procura distrettuale di catanzaro perquisita la casa romana di cesa che si dichiara estraneo ai fatti ai domiciliari franco talarico segretario in calabria dell'udc e assessore regionale al bilancio complessivamente 48 le persone arrestate tra loro ci sono colletti bianchi e imprenditori secondo l'accusa legati ai maggiori esponenti delle più importanti indrine di crotone isola di capo rizzuto e cutro in italia d'oggi sono state somministrate oltre un milione 250 mila dosi di vaccino covid e purtroppo negli ultimi giorni c'è stato il temuto rallentamento dovuto ai ritardi delle consegne da parte della pfizer una vicenda di cui oggi si parlerà anche nel vertice europeo letizia da voli non si allenta la tensione tra l'italia del colosso pfizer biontech per il blocco delle forniture dei vaccini in una fase così delicata della campagna come quella dell'inizio dei richiami per le seconde dosi quelle che forniscono l'immunità al virus le mancate consegne hanno messo in crisi più di una regione nonostante le scorte messe da parte proprio per le seconde dosi il calo dei farmaci disponibili causerà il rinvio della campagna rivolta agli over 80 e a cascata quella per tutta la popolazione questa sera è previsto un vertice dell'unione europea messa in difficoltà come l'italia dal crollo delle consegne i virologi però tranquillizzano almeno chi ha già ricevuto la prima dose le seconde dosi ci sono e verranno somministrate a tutti mentre il vice ministro della salute sileri ribadisce che la pfizer ha rassicurato lema sulla ripresa delle forniture al massimo entro due settimane confermando che è rallentamento dovuto unicamente alle norme richiesta la necessità per il colosso farmaceutico di reperire le materie prime ed intensificare la produzione ma ha precisato se entro 15 giorni non arriveranno i vaccini come promesso l'italia penserà a tutelarsi in ogni sede su fronte contagi intanto la curva resta stabile ma non scende con un tasso di positività che si assesta attorno al 4,6 per cento ieri i decessi sono stati 524 contro 603 mentre continua il calo dell'occupazione delle terapie intensive scese sotto quota 2.500 il governo ha chiarito che è possibile raggiungere la seconda casa fuori regione anche quando si trova in zona arancione o rossa a patto che la persona ne sia in possesso da prima del 14 di gennaio il giorno in cui è stato firmato il decreto per lo spostamento poi fa sapere il governo è necessaria l'autocertificazione parliamo adesso della prossima maturità a differenza dell'anno scorso quest'anno per essere ammessi all'esame finale bisognerà avere almeno la media del 6 mentre come nel 2020 non ci sarà prova scritta ma solo un colloquio orale pierluigi vito maturità si replica al ministero dell'istruzione da quanto si apprende si starebbe lavorando per confermare le modalità dell'esame di stato utilizzate lo scorso anno quindi niente scritti solo una prova orale a partire da un elaborato realizzato dal candidato sulle materie di indirizzo per poi spaziare nelle altre discipline sulla base di materiali preparati dalla commissione che sarà guidata da un presidente esterno mentre gli altri componenti saranno i docenti interni alla scuola il voto finale dipenderà per il 60 per cento dai giudizi maturati dall'alunno nel triennio e per il 40 per cento dalla prova d'esame l'unica novità alle viste sarebbe la reintroduzione della non ammissione all'esame qualora il giudizio sul candidato non fosse completamente positivo come a dire che non basta un 5 in una materia per essere esclusi dalla maturità ma più che la prova finale in sé a preoccupare gli studenti è il trascinarsi di una scuola a singhiozzo che rischia di lasciare grandi lacune formative il reale problema dell'esame di maturità di quest'anno non sarà tanto la forma dell'esame stesso ma sarà come gli studenti potranno arrivare a questo esame in un anno in cui fare scuola risulta complicato e ci sono mille difficoltà nel portare avanti il programma didattico bisognerà permettere agli studenti di arrivare a sostenere gli esami davvero preparati arrivare potendo dare davvero il massimo di serbe andiamo adesso nel regno unito dove si registra il nuovo record di morti per covid 1820 persone nella sola giornata di ieri il paese alle prese con una variante più aggressiva del virus che il lockdown nazionale sta frenando a fatica e gli ospedali sono sottoposti a uno stress non indifferente massimiliano cocchi nell'inghilterra travolta dalla terza ondata della pandemia ci sono luoghi dove il virus si abbatte con tutta la sua forza bassim shasundin è il direttore del reparto di terapia intensiva dell'ospedale universitario di milton kaines cittadina a nord ovest di londra dice che qui durante la prima ondata la mortalità era attorno al 40 per cento oggi è più dell'ottanta per cento e sono più che raddoppiate anche le persone ricoverate dice l'amministratore delegato dell'ospedale joe harrison la gran bretagna è alle prese con una variante più aggressiva del virus e anche se il lockdown imposto dal governo sta lentamente rallentando il contagio il numero delle vittime continua a crescere ieri è stato toccato il drammatico record di 1820 stephen marshall a 68 anni si è ammalato dopo un'operazione alla schiena pensavo fosse un raffreddore ma poi sono peggiorato non riuscivo neanche a tenermi in piedi ed eccomi qui ho sempre indossato la mascherina non sono andato in giro ho ridotto al minimi miei contatti ma non è bastato dice goffrey winter che invita a non sentirsi mai del tutto al sicuro mentre in tutta la gran bretagna prosegue spedita la campagna di vaccinazioni con oltre 5 milioni fra prime e seconde dosi somministrate il virus continua a diffondersi e a colpire duro abbiamo pazienti sempre più giovani persone che non rispondono alle cure con cortisone rendese vi spiega la dottoressa jay holliday che aggiunge la situazione è difficilissima vediamo morire persone che con le cure che pratichiamo dovrebbero sopravvivere non capiamo cosa succedere ma è incredibilmente dura andiamo in israele primo paese per somministrazione di vaccini ma chi ha ricevuto solamente la prima dose finisce per ammalarsi dimostrando la necessità di assumere la seconda dose la corrispondente alessandra buzzetti festeggiano la fine di mesi di isolamento così ballando insieme ma continuando ad indossare le mascherine abbiamo ricevuto la seconda dose del vaccino stiamo per tornare liberi per uscire per riabbracciare le nostre famiglie di ceplina 70 anni insegnante in pensione ospiti di una casa per anziani israeli a un mese esatto dall'inizio della campagna vaccinale quasi 3 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose 550 mila hanno già fatto anche il richiamo numeri che licenziati stanno analizzando la protezione garantita dalla prima iniezione del vaccino pfizer si sta dimostrando inferiore alle attese avvertono gli esperti israeliani anche per arginare le troppe violazioni delle regole anti covid che hanno fatto rischizzare a 8 mila i nuovi contagi giornalieri e costretto il governo a prorogare lockdown fino al 31 gennaio il ministro della salute israeliano ha raccomandato ieri il vaccino anche alle donne incinte il coronavirus sta dimostrando più pericoloso per mamma e bambino degli effetti collaterali della vaccinazione nell'ultimo mese due madri hanno perso la vita dando alla luce loro figlia a causa di complicanze dovute al coronavirus a betlemme nei territori palestinesi la campagna vaccinale non è neppure cominciata nonostante i contagi continuino ad aumentare non sono ancora pervenute neppure le prime 5 mila dosi del vaccino russo sputnik promesse da mosca mentre israele per ora inizierà a vaccinare solo i prigionieri palestinesi paese virtuoso è invece la giordagna che prima al mondo da una settimana sta vaccinando gratuitamente anche i rifugiati nei campi profughi civita di bagno regio sarà iscritta per essere candidata nella lista del patrimonio mondiale dell'unesco francesco durante furono gli etruschi 2500 anni fa a fondare civita frazione del comune di bagno regio abitata da una decina di residenti in provincia di viterbo il suo singolare paesaggio che la mostra quasi sospesa sulla valle dei calanchi è stato candidato ad essere iscritto nel patrimonio mondiale dell'unesco un giusto riconoscimento della sinergia tra i diversi attori del territorio tra pubblico e privato ha commentato il ministro dei beni culturali franceschini un importante passo verso l'inserimento di questo sito straordinario di enorme valore e bellezza tra i beni tutelati dall'unesco dell'epoca etrusca quando fu fiorente centro commerciale rimangono molte testimonianze tra cui il bucaione profondo tunnel che segna la parte più bassa dell'abitato e permette l'accesso diretto dal borgo alla valle dei calanchi civita con la sua struttura medievale la sua suggestiva posizione geografica e visitato ogni anno da migliaia di turisti e numerose volte è stata scelta come set cinematografico la città che muore come la definì lo scrittore buonaventura tecchi nei primi del novecento rischia però di scomparire a causa della progressiva erosione della collina e della vallata circostante che ha dato origine a quello scenario spettacolare costituito dai calanchi attualmente il borgo è raggiungibile soltanto attraverso un ponte pedonale in cemento armato costruito nel 1965 è tutto vi lascio alle previsioni meteo dell'aeronautica militare a seguire terza pagina buona giornata grazie a tutti grazie a tutti